Nessun depauperamento per l'ospedale di Roccadaspide lo fa sapere il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Noi stiamo lavorando per avere una rete ospedaliera la più diffusa possibile sui territori. Siamo però per tre anni in piano di rientro e siamo sottoposti ai controlli da parte del Ministero dell'Economia e della Salute. Non si può avere in ogni città un ospedale, sottolinea De Luca. L'ospedale di Roccadaspide, in ogni caso, è un presidio che è pienamente inserito nella rete. Nessun depauperamento, noi stiamo lavorando per avere una rete ospedaliera la più diffusa possibile sui territori, ma senza demagogia. Quando parliamo di ospedali noi ci dimentichiamo sempre che la Campania è in piano di rientro. Che significa il piano di rientro? Che essendo usciti dal commissariamento per il quale abbiamo oggi 15.000 dipendenti in meno nella sanità campana, non ve lo dimenticate mai. Siamo però in piano di rientro, cioè per tre anni siamo sottoposti al controllo da parte del Ministero dell'Economia e della Salute. Perché in Campania, per esempio, avevamo 90 strutture complesse in più rispetto a quello che prevede la legge. Allora dobbiamo stare attenti, perché se io giro per la Campania e in ogni paese dico ti faccio l'ospedale, sono un imbecille irresponsabile. Allora, Rocca d'Aspide è un ospedale che è pienamente inserito nella rete. Faremo le cose migliori possibili nell'ambito dei vincoli nazionali che abbiamo. Punto. State tranquilli perché è una rete ragionevole, ragionevole, che garantirà con il personale che abbiamo il massimo dei servizi possibili. Era prevista la chiusura di Rocca d'Aspide, ve lo ricordo. Ma il motivo per cui lo abbiamo ripreso è esattamente questo. Rocca d'Aspide era uno degli ospedali che erano stati tagliati dal precedente governo regionale. Come l'ospedale di Agropoli, che era stato chiuso con le catene. Come altri dieci ospedali della regione. Noi abbiamo ripreso questi ospedali, utilizzando molto la richiesta di deroga al Ministero come zona disagiata. Esattamente per il motivo che dice lei. Siamo nell'area interna, abbiamo una difficoltà di percorsi. È il motivo per cui abbiamo tenuto aperte alcuni punti nascita che andavano chiusi. Per ragioni di tutela delle pazienti, non per ragioni di cattiveria. Perché come sapete, quando si scende sotto una soglia di parti entro l'anno, non viene garantita poi appieno la sicurezza per le donne partorienti. Abbiamo recuperato una serie di cose che erano destinate a morire. Rocca d'Aspide è fra queste. Pienamente recuperato e faremo veramente un bel lavoro. Non sono aggiornatissimo sulle ultime decisioni. Faremo sapere anche agli amministratori al Comune, ma è un bell'ospedale che ha avuto interventi anche di riqualificazione. Andrà avanti.